L'arcivescovo della diocesi di Campobasso Boiano, Giancarlo Bregantini, prende posizione sullo Ius Soli, che è un tema di strettissima attualità. Sarebbe ora un diritto, non un favore, ha dichiarato riferendosi all'accelerazione imposta dal Governo per il varo del provvedimento. L'intenzione è quella di approvarlo entro la fine della legislatura. È doveroso che venga fatto immediatamente, ha aggiunto Bregantini. Se ne parlava già sette anni fa durante le settimane sociali a Reggio Calabria. La paura eventuale deve sparire. Ha proseguito l'alto prelato. Se un cittadino è riconosciuto, è comunque collaborativo, partecipativo e in grado di dare il meglio di sé. Dobbiamo quindi aprire le situazioni alla realtà già istituzionali. I figli dei migrati nati in Italia hanno il diritto alla cittadinanza. Non è un favore che viene loro concesso, ha puntualizzato Bregantini, che si è soffermato anche sul viaggio del Papa in Cina. Il suo viaggio sarebbe la conferma di un mondo che cambia, ha spiegato. È un modo per far sì che la Cina torni ad essere protagonista e non solo più realtà di commercio che ci fa concorrenza, ha aggiunto, ma protagonista di cultura, di religiosità e di dimensione spirituale. È questo il grande sogno che l'Occidente deve avere, realizzare i ponti creati da Marco Polo, ha concluso Bregantini. Grazie. 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 Grazie.